Chiaramente su queste cose relative alla meccanica quantistica vado un po' veloce perché insomma capirete che un corso di meccanica quantistica fatto come Dio comanda richiederebbe un intero corso di una sessantina di ore se non di più, quindi qui sto dando giusto degli spunti per mettere giù le cose che mi servono appunto per poi andare a discutere degli aspetti statistici non della meccanica quantistica e quindi poi per costruire le cose che vogliamo, giusto perché abbiate un'idea del perché si scrivono certe formule poi alla fine di tutto il discorso che arriverà a fine corso, perché da dove saltano fuori certe idee, ad esempio relativamente appunto la quantizzazione dell'energia, soprattutto la quantizzazione dell'energia vibrazionale associata alle vibrazioni degli atomi nei cristalli per esempio, quindi perché debbano valere certe leggi, sono un po' strane a vedersi, non mi piace diciamo buttare giù le cose calate un po' dall'alto ma far vedere perlomeno qual è il percorso logico che ha portato alla formulazione di certe idee, tutto va fatto però nei tempi contingentati, molto contingentati che abbiamo. Allora dicevo che la meccanica quantistica diciamo prende le mosse da una serie di difficoltà grosse della meccanica classica quando si trattava di andare a spiegare fenomeni non solo alla scala atomica, non solo alla scala microscopica, per esempio il calore specifico è una quantità misurabile a livello macroscopico e non corrisponde quello diciamo calcolato assumendo una meccanica di tipo classico, non corrisponde a quello che si misura sperimentalmente e l'effetto fotoelettrico è un fenomeno che non necessariamente va riguardato la scala atomica e quindi diciamo non soltanto fenomeni alla microscala che richiedono un'introduzione di un formalismo, di una fisica nuova ma anche fenomeni alla macroscala. Perciò è stata una rivoluzione senz'altro necessaria nel campo fisico e il motivo per cui la meccanica quantistica in realtà funziona non è noto sostanzialmente, in ultima analisi ci possono fare tanti discorsi ma in ultima analisi il perché funziona in un certo modo non lo sa nessuno, questo non lo dico io, me lo diceva già Feynman che è stato uno dei grandi fisici del Novecento che diceva che la meccanica quantistica in realtà si sa che funziona ma non si sa perché funziona. Un'altra cosa al vagamento umoristica di cui dovete tenere conto e non se non ne avete adesso a chimica, chi ha fatto chimica chiaramente queste cose le ha già viste, chi ha fatto scienze geologiche le ha sentite raccontare da me anche più o meno velocemente così come sto facendo qui, ad esempio Francesco si ricorderà che qualche cosa avevo raccontato e sappiate che un certo Bohr che è stato poi quello che ha costruito il modello dell'atomo di Bohr che non è l'atomo quantistico più moderno che abbiamo dal punto di vista del modello però è un modello che ha una sua importanza storica fondamentale, Bohr era stato uno dei padri fondatori della meccanica quantistica e lui diceva che se una persona che sente parlare per la prima volta di meccanica quantistica dice che ha capito tutto vuol dire che non ha capito niente perché diciamo non è un argomento particolarmente semplice perché non ci si può muovere all'interno della meccanica quantistica sfruttando un quadro classico quindi in qualche cosa che funzioni su linee di ragionamento classico richiede un certo sforzo mentale diverso diciamo piuttosto considerevole allora detto questo una delle cose che vi si racconta sovente che è corretta, non è che sia scorretta che vi si racconta sovente è che uno dei problemi che si hanno quando uno affronta un problema a scala atomica è l'impossibilità di attribuire contemporaneamente una posizione e un impulso a una certa particella quando abbiamo finito poco fa di parlare di meccanica classica vi dicevo che lo stato del sistema lo stato di un sistema classico veniva descritto viene descritto assegnando un punto nello spazio delle fasi del sistema e quindi assegnando un valore preciso di posizione e di impulso alla data particella che stiamo descrivendo questo è la base diciamo del trattamento classico dei sistemi e ciò che entra nella soluzione dell'equazione differenziale noi vi dicevo vogliamo scrivere l'equazione del moto di un'altra particella sotto l'azione di una certa forza è un'equazione differenziale del secondo ordine per risolverla abbiamo bisogno oltre che risolvere l'equazione di per sé e per risolverla compiutamente quindi determinare esattamente qual è la traiettoria della particella abbiamo bisogno di assegnare in un certo istante iniziale per esempio i valori di velocità e di posizione della particella e quindi assegnare un punto nello spazio delle fasi dal punto di vista quantistico si dice che questa cosa è impossibile da farsi quindi non si può descrivere lo stato di un sistema assegnando contemporaneamente l'impulso e la posizione della particella perché non è possibile? perché si dice che l'osservazione di una data particella che quindi ci permette di localizzare la particella se noi vogliamo osservarla dobbiamo localizzarla dire la particella si trova lì a una certa coordinata x e l'osservazione implica inviare una qualche tipo di per esempio supponete che qui avete la vostra particella che si sposta sulla vostra direzione x l'osservazione significa inviare sulla particella una certa sonda un certo fotone supponiamo quindi un oggetto che ha una certa frequenza una certa energia questo va a collidere sulla particella con la particella e poi viene per esempio diffuso viene scatterato in una certa altra direzione allora guardando la direzione che assume il fotone che abbiamo inviato sul nostro sistema rispetto alla posizione che il fotone è il traiettore che il fotone aveva inizialmente dalla partita di una certa sorgente ci consente questa operazione di andare a localizzare la particella il problema è che normalmente avviene un'interazione di tipo anelastico tra il fotone e la particella medesima per cui la particella viene colpita dal fotone e questo causa un'alterazione del momento della particella se il fotone cambia di traiettoria questo vuol dire che c'è stato uno scambio anche se lo scambio fosse elastico nel senso che il fotone viene messo esattamente con la stessa frequenza con cui è arrivato quindi non c'è uno scambio di energia quello che si ha certamente però è uno scambio di momento perché il fotone cambia il suo momento perché cambia la direzione con cui si sposta nello spazio e quindi il vettore differenza quindi se il nostro vettore di arrivo del nostro fotone era questo quindi il fotone che viaggia in questa direzione e se ne va nella direzione differente avete il fotone che se ne va in un'altra direzione avete una vettore differenza del fotone per cui il fotone ha cambiato il suo momento la particella a sua volta viaggiava con un certo momento in quest'altra direzione quindi la particella se ne andava qui e poiché nel sistema complessivo fotone più particella il momento complessivo del sistema si deve conservare perché esiste il principio di conservazione del momento si può dimostrare che deve esistere sotto condizioni molto generali ovviamente io non sto a entrare su questi dettagli però normalmente abbiamo il principio di conservazione del momento e se il fotone ha cambiato il momento anche la particella deve assumere una componente del momento in una direzione uguale opposta a quella del fotone per compensare per compensare la variazione del momento del fotone quindi a un certo punto la nostra particella se ne deve andare la whiteboard di Microsoft non so se si prende la libertà di farmi disegnire quindi anche l'elettrone a un certo punto si troverà ad avere una direzione differente dalla direzione iniziale ovvero si troverà ad avere un momento differente dal momento che la particella aveva quindi abbiamo inviato un fotone sulla particella questo ci ha consentito di localizzare la particella ma contemporaneamente ha alterato il momento della particella e quindi alla fine noi conosciamo qual era la posizione della particella ma non sappiamo più quale sia il suo momento perché l'abbiamo alterata proprio con l'osservazione e questo porta al cosiddetto principio di indeterminazione di Heisenberg per cui non è possibile conoscere con accuratezza arbitraria la posizione e l'impulso della particella quindi o conosciamo l'una molto precisamente e quindi l'altra quantità risulta completamente indeterminata oppure conosciamo con una precisione bassa con una bassa accuratezza una variabile e di conseguenza possiamo determinare l'altra seconda variabile con una, a sua volta, un'altra inaccuratezza per cui normalmente si scrive un'equazione del tipo delta x per delta p deve essere maggiore o uguale ad una certa scrivo qui accattagliato mezzi accattagliato semplicemente la costante di Planck di Is 2 pi greco ma diciamo che quello che il prodotto delle indeterminazioni nella posizione della particella e del suo impulso il prodotto di 2 deve superare deve essere superiore a una certa soglia che è stabilita diciamo dalla costante di Planck invece dal punto di vista classico semplicemente delta x per delta p può essere ridotto arbitrariamente a zero allora questo vuol dire che mentre lo stato della particella è descrivibile in maniera esaustiva dando nel punto nello spazio delle fasi del sistema dal punto di vista classico questo non è possibile fare perché assegnare un punto nello spazio delle fasi equivale a dire io assegno in maniera precisa sia il momento sia la posizione della particella quindi questa operazione che classicamente si fa non è assolutamente possibile farsi dal punto di vista quantistico quindi abbiamo la necessità di trattare gli stati delle particelle in maniera differente da come si fa dal punto di vista classico quindi bisogna utilizzare un metodo differente e non solo bisogna anche incorporare nel formalismo che si va a costruire un modo un metodo per descrivere in maniera automatica senza doverlo poi introdurre a posteriori ad hoc ma descrive in maniera automatica quello che è il fenomeno di interferenza tra l'osservatore e l'oggetto che viene osservato allora ovviamente lo sviluppo della meccanica quantistica dal punto di vista storico è stato più complesso più travagliato quindi prima abbiamo avuto Planck poi abbiamo avuto un sacco di altri fisici Bohr chiaramente ma non soltanto lui Sommerfeld Pauli eccetera tutti che hanno dato i loro contributi Schrödinger Heisenberg eccetera però e quindi diciamo lo sviluppo complessivo se uno volesse seguire dal punto di vista storico per esempio così come ho fatto in termodinamica è piuttosto lungo è interessante ma è piuttosto lungo mentre noi non seguiamo non seguo qui quella via seguo invece la via che ha formulato Dirac che ha preso il Nobel nel 35 per la meccanica quantistica per i suoi contributi alla meccanica quantistica che ne ha dato la sistemazione migliore che è quella che utilizziamo ancora oggi una sistemazione di tipo assiomatico che raccoglie e mette in maniera chiara e precisa tutti i risultati che sono stati ottenuti dai suoi predecessori inventando di sana pianta l'informalismo che poi che poi viene impiegato allora il punto di partenza è la descrizione dello stato del sistema che ribadisco dal punto di vista classico è fatto assegnando semplicemente un punto nello spazio delle fasi nel caso quantistico questo non è più possibile allora che cosa si sceglie? bisogna scegliere una qualche grandezza che sia matematicamente soddisfacente flessibile per descrivere lo stato di un sistema e quello che fa Dirac è l'introduzione di quelli che lui chiama vettori cat adesso dico meglio allora se voi dovete descrivere lo stato di un sistema dicevo dal punto di vista classico assegnate i valori delle coordinate e dell'impulso della particella cioè assegnate sostanzialmente degli scalari dei numeri sono per una particella che si muove in tre dimensioni sono sei scalari e quindi un insieme di numeri sostanzialmente un insieme di numeri voi lo potete anche trattare come un vettore nel momento in cui questo insieme di numeri assuma un certo significato particolare se io prendo i miei sei numeri che costituiscono x, y, z px py, pz posso considerare questo insieme di sei numeri come un vettore cioè come un elemento di un oggetto di una struttura algebra che chiamiamo spazio vettoriale e che poi diciamo possiamo trattare in vari modi cosa facciamo con i vettori possiamo moltiplicarli per degli scalari possiamo moltiplicarli tra loro scalarmente possiamo fare tutta una serie di operazioni sui vettori e allora Dirac dice non so se Dirac abbia fatto questo genere di ragionamento io sto un po' romanzando la questione però lui dice ma perché non adesso andare a specificare esattamente questo tipo di vettori che natura debba avere semplicemente diciamo che per descrivere lo stato del sistema noi comunque ci rifacciamo un qualche tipo di vettore e lui poi questo vettore sarà caratterizzato da certe grandezze da certe componenti rispetto a un certo sistema di riferimento però per adesso non preoccupiamoci del sistema di riferimento scriviamo semplicemente l'espressione generica di un vettore e noi quando scriviamo l'espressione generica di un vettore diciamo modernamente facciamo una cosa di questo genere vi sottolineato oppure mettiamo vi con una freccetta sopra intendiamo un qualche tipo di vettore e normalmente nella nostra testa abbiamo sempre in mente i vettori rappresentati graficamente con delle freccette quindi vettori che sono nientanto che dei segmenti orientati del piano però modernamente non è così cioè il vettore è qualche cosa di più generale in realtà il vettore quando uno vi chiede che cos'è un vettore la risposta non può che essere evasiva cioè il vettore in realtà non lo definite in se stesso voi dite che il vettore è un elemento di uno spazio vettoriale e lo spazio vettoriale a sua volta è una struttura algebrica che soddisfa certe proprietà sulle quali adesso non sto ad entrare diciamo che abbiamo la possibilità di definire i vettori come elementi di strutture algebriche molto generali che si chiamano spazi vettoriali il simbolo che usa Dirac per rappresentare il vettore non è una cosa con una freccetta sopra ma è un simbolo di questo genere si chiama vettore cat avete una barretta verticale e poi questo simbolo qui di maggiore questo si chiama vettore cat e di questi vettori cat ne potete avere infiniti e potete discriminare uno dall'altro con delle etichette per esempio potete identificare un vettore cat a un vettore cat b eccetera eccetera e questi vettori cat rappresentano stati del sistema quindi per adesso noi non sappiamo che cosa voglia dire vettore cat non sappiamo in realtà che cosa corrisponde una certa rappresentazione sappiamo però che lo stato di un sistema sarà molto probabilmente descrivibile attraverso un qualche tipo di vettore definito in uno spazio vettoriale di un qualche genere che non necessariamente è lo spazio vettoriale a cui siamo abituati che lo spazio vettoriale in cui facciamo i conti normalmente è lo spazio vettoriale tridimensionale che è uno spazio vettoriale reale nel senso che reale non vuol dire che esiste sul serio ma vuol dire che è uno spazio vettoriale definito sull'insieme dei numeri reali nel senso che noi possiamo prendere i nostri vettori moltiplicarli per dei numeri reali e ottenere degli altri vettori questo quindi il nostro spazio tridimensionale con cui facciamo normalmente i conti è lo spazio vettoriale reale Dirac considera uno spazio vettoriale in realtà complesso quindi costruito su numeri complessi per cui i vettori possono essere moltiplicati per numeri complessi e non soltanto numeri reali e non è detto e anzi quasi mai lo è che debba essere uno spazio a dimensione finita noi questi spazi vettoriali complessi a dimensione infinita abbiamo dato un nome oggi li chiamiamo spazi di Hilbert però non è questo il punto non è parlare di spazi di Hilbert diciamo che semplicemente Dirac sosteneva che era possibile o non è che sosteneva diciamo aveva postulato il fatto che gli stati del sistema potessero essere descritti da vettori in un dato spazio vettoriale e di tipo complesso quindi abbiamo questi vettori questi vettori sono rappresentativi di stati e la convenzione quindi vuol dire dice che il vettore cat A è rappresentativo dello stato A il vettore cat B è rappresentativo dello stato B eccetera eccetera un vettore cat C sarà rappresentativo di uno stato C quindi avete una stato del sistema che viene descritto da un dato vettore dopodiché lui diceva io supponiamo oltre alla possibilità di prendere questi vettori e andarli a moltiplicare per degli scalari quindi io ho il vettore A per esempio e lo posso andare a moltiplicare per un numero complesso chiamiamolo C quindi prendo si chiama un po' meglio prendo il mio vettore cat A e lo moltiplico per uno scalare C che è un numero complesso Dirac fa la supposizione che sia il cat A sia il cat CA rappresentino lo stesso stato A quindi scrivere A o scrivere CA dal punto di vista dell'interpretazione fisica corrisponde allo stesso stato A quindi questa costante C poi in realtà è importante per altre questioni che vediamo dopo però prendere un vettore o prendere lo stesso vettore moltiplicato per un certo scalare non conduce a uno stato differente quindi se vogliamo tutto riportarci allo spazio vettoriale ordinare a cui siamo abituati supponete di avere un certo vettore questo qui che sia il vostro vettore cat A e se avete un altro vettore per esempio questo vettore A moltiplicato per 2 quindi avete un secondo vettore 2A e entrambi questi vettori rappresentano lo stesso stato A mentre invece uno stato differente è descritto da un vettore che ha una direzione diversa quindi per esempio questo qui sia un cat vettore cat B questo punta in una direzione diversa questo non può essere ricondotto al vettore A semplicemente moltiplicandolo per uno scalare quindi questo vettore cat B rappresenta uno stato B differente dallo stato A quindi questa prima cosa non sappiamo ancora bene che cosa voglia dire rappresentare uno stato con dei vettori però sappiamo così lavorando un po' in analogia col caso classico in cui comunque una stato del sistema era descritto da una ennupra di numeri reali in quel caso posizioni e impulso supponiamo che anche dal punto di vista quantistico anche se non sappiamo ancora quali possano essere le componenti che entrano nella caratterizzazione di un vettore A rispetto a un dato sistema di riferimento assumiamo che comunque gli stati siano descrivibili da dei vettori dopodiché adesso noi oggi sappiamo che cosa vuol dire fare il prodotto scalare tra due vettori noi abbiamo un vettore V e un vettore V sappiamo farne il prodotto scalare V per V che è a sua volta uguale al modulo di V per il modulo di V per il coseno dell'angolo compreso sia alfa l'angolo compreso tra i due allora questa è un'operazione che sappiamo fare negli spazi vettoriali ordinari e sappiamo fare anche in realtà negli spazi di Hilbert dirà che per costruire il suo formalismo ha anche bisogno di definire quello che è il prodotto scalare tra vettori quindi supponiamo di avere due vettori distinti un vettore A e un vettore B e di voler fare il prodotto scalare tra questi due allora lui dice fa questa cosa che poi dai matematici è stato criticato è stato rivisto e risistemato in una maniera piuttosto diversa però adesso noi lo lo vediamo così allora questo B questo vettore Ket P lo trasformiamo in un altro vettore che viene chiamato Bra la lettera che c'è all'interno è esattamente la stessa lettera che c'è nel Ket è un vettore Bra quindi con il simbolo ed alzata questo è il simbolo di minore la etichetta che rappresenta lo stato e poi la stanghetta verticale e una volta che abbiamo trasformato il Ket B nel Bra B facciamo il prodotto scalare in questo modo andando a moltiplicare per il Ket A quindi se abbiamo due Ket A e B prendiamo uno dei due vettori lo trasformiamo nel cosiddetto Bra e poi lo andiamo a comporre con A in questo modo e questa scrittura chiusa tra due parentesi di questo genere questi due simboli in inglese si chiama proprio Bra Ket e per questo che Dirac ha scelto questi due nomi i vettori Ket e i vettori Bra vettori Ket e i vettori Bra perché la composizione di un Bra con un Ket mi dà un Bra che corrisponde a un numero per il prodotto scalare tra due vettori è un numero è uno scalare se siamo nel campo dei reali il prodotto scalare di V per W sarà un numero reale se siamo nel campo dei complessi in generale il prodotto scalare dei due vettori è normalmente un numero complesso allora tutte le volte che in meccanica quantistica vedete un'espressione di un qualunque genere racchiusa da una coppia di parentesi di questo genere qui avete un bracket qualsiasi cosa può essere scritta all'interno anche espressioni piuttosto complicate costruite in termini di vettori Ket vettori Bra e altre cose che poi vediamo più avanti viene chiamato bracket e questa roba qui è certamente un numero un certo numero uno scalare che normalmente è un numero complesso allora definendo il prodotto scalare in questo modo Dirac ha implicitamente definito i vettori Bra i vettori Bra sono definiti implicitamente attraverso i prodotti scalari con i corrispettivi vettori Ket questa cosa in realtà poi dicevo i matematici l'hanno rivista risistemata meglio allora innanzitutto Dirac dice che lo stato di un sistema può essere equivalentemente descritto sia dai vettori Ket sia dai vettori Bra quindi è indifferente che noi scegliamo di descrivere i nostri sistemi quantistici usando i vettori Ket perché potremmo fare nello stesso modo usando in maniera totalmente simmetrica i vettori Bra la meccanica quantistica che ne viene fuori è esattamente identica in realtà i matematici di oggi fanno una cosa differente quando voi parlate di spazi vettoriali adesso vi dico brevemente cos'è uno spazio vettoriale altrimenti sembra che parli un po' di aria fritta uno spazio vettoriale non è nient'altro che un gruppo quindi avete un insieme che chiamiamo insieme E dotato di un'operazione di somma che poi nel caso specifico è proprio la somma dei vettori questo coppia di operazioni E cioè insieme E con l'operazione di somma E deve essere perché poi tutta la struttura poi assume sia poi uno spazio vettoriale deve essere un gruppo commutativo questo vuol dire che se io prendo due vettori due oggetti V che chiamiamo così V e W che appartengono ad E allora è definito una somma di questi due oggetti V più W che appartiene ancora ad E e questa somma deve essere commutativa cioè questo V più W deve essere uguale a W più V V più W uguale a W più I dopodiché non basta deve esistere in questo insieme E un elemento che chiamiamo elemento neutro normalmente il vettore nullo lo chiamiamo anche vettore nullo che normalmente è indicato così quindi deve esistere all'interno di di il nostro vettore del nostro insieme E quindi un vettore che identifichiamo col vettore nullo tale che qualunque anzi scriviamo per qualunque vettore V di E per qualunque vettore V che appartiene ad E V più vettore nullo uguale vettore nullo più V deve essere uguale a V questo è la definizione di elemento neutro quindi il nostro sistema il nostro insieme E deve contenere un oggetto che chiamiamo vettore nullo che si comporta in questo modo sommato a qualunque altro vettore mi deve dare lo stesso vettore di partenza non solo ma deve esistere anzi per ogni per ogni V che appartiene ad E uso questa notazione compatta che usano i matematici per ogni V che appartiene ad E deve esistere un altro vettore che chiamiamo V segnato che appartenga ancora ad E tale che V segnato più V dia proprio il vettore nullo e questo è quello che viene chiamato questo V segnato è quello che chiamiamo vettore inverso di V quindi questo insieme di E dotato di questa operazione di somma è quello che viene chiamato gruppo gruppo commutativo gruppo perché è una struttura algebrica chiusa nel senso che la somma di due vettori di E appartiene ancora ad E esiste anche la proprietà associativa sulla quale sorvolo esiste l'elemento neutro questo vettore nullo ed esiste l'inverso di ogni vettore cioè esiste per ogni vettore V di E esiste un altro vettore che mi ha disegnato che sommato al nostro vettore V ci dà il vettore nullo allora se queste proprietà sono soddisfatte questo oggetto viene chiamato gruppo in particolare gruppo commutativo e notazione additiva dopodiché non basta per definire uno spazio vettoriale per adesso abbiamo semplicemente definito un gruppo commutativo che è uno degli ingredienti base degli spazi vettoriali deve esistere diciamo vado a costruire il mio spazio vettoriale sul campo dei reali per esempio in questo modo definisco un'operazione che chiamo prodotto esterno da R per E in E cioè un'operazione che associa coppie costituite da uno scalare di R quindi un numero reale e un vettore di E con risultato in E che vuol dire che io posso prendere un numero che chiamo R numero reale posso prendere un vettore V che appartiene ad E e formare il prodotto R per V dove questo prodotto è appunto il prodotto esterno di uno scalare per un vettore e questo oggetto deve essere a sua volta un vettore che appartiene ancora ad E quindi questo deve essere verificato per ogni coppia data da un numero reale e da un vettore V che appartiene ad E questa operazione di prodotto esterno adesso chiaramente non sto a dettagliare queste cose più di tanto ci sarebbe molto da dire ma questa operazione di prodotto esterno deve avere una serie di proprietà per cui se sono verificate tutte le proprietà che vengono richieste la struttura algebrica che costruisco è quella che viene chiamata lo spazio vettoriale e gli elementi dello spazio vettoriale sono chiamati appunto vettori dopodiché c'è un'altra cosa che si fa normalmente i matematici fanno una volta che hanno definito i loro spazi vettoriali ecco che passano subito a definire delle operazioni sui vettori quindi delle funzioni di variabile vettoriale variabili vettoriali per il tipo di funzioni che trasportano vettori di uno spazio vettoriale in un dato spazio vettoriale f e possono esistere ovviamente anche delle operazioni che trasportano vettori di e ancora in vettori di e quindi vettori da e in e quando fate per esempio matematica e fate analisi avete a che fare con funzioni reali di variabile reale quindi una funzione che agisce su dei numeri reali e vi restituisce un numero reale oppure funzioni reali di variabile complessa quindi una funzione che vi dà un numero reale in funzione di una variabile complessa oppure funzioni complesse di variabile reale o funzioni complesse di variabili complesse quindi avete tutta una gamma possibile di funzioni che agiscono su spazi diversi avete un dominio in questo caso Se andiamo sugli spazi vettoriali, un dominio della F che coincide con lo spazio vettoriale E è un'immagine della F che coincide con uno spazio vettoriale F differente. Oppure potete avere delle funzioni che prendono dei vettori di E e li trasportano ancora in vettori di E. Pensate nello spazio vettoriale ordinario ad una funzione che prende un vettore, supponiamo questo vettore qui, che è un vettore di E, il nostro spazio vettoriale ordinario, e lo ruota in un vettore di E ancora, quindi fa una rotazione di 90 gradi. Questa operazione, questo passaggio da questo vettore V a questo vettore W, quindi questa operazione di rotazione, la potete proprio vedere come una funzione che agisce su V e mi trasporta il vettore in W. Quindi questa è un'operazione di F da E in E. Prendi un vettore di E e me lo trasporta ancora in un vettore di E. Oppure, che so, una funzione che prende il vettore V e ve lo moltiplica per 2, prendete quindi la vostra F e agisce su V e vi dà 2V. Questa è un'altra operazione possibile, un'altra funzione possibile di E in E. Però in generale, dicevo, queste funzioni possono agire su dei vettori di E e portarvi in spazi vettoriali differenti. Allora, uno spazio vettoriale particolare che è utile molto spesso è lo spazio vettoriale costituito esattamente dagli scalari, da R. Se voi prendete il campo degli scalari e vi limitate semplicemente a prendere i numeri reali, definite l'operazione di somma, di numeri reali, e poi fate l'operazione di prodotto esterno per uno scalare, che vi darà ancora un vettore di R, praticamente un numero scalare, siete in grado, sto andando molto veloce, perché qui do soltanto qualche spunto, poi ovviamente è tanto per dare un'idea di cosa ha fatto Dirac, di cosa ha combinato Dirac, e di come poi la sua matematica è stata rivista nel tempo. Quindi non vi preoccupate se non riuscite a capire tutte queste cose qui, sono solo degli spunti, diciamo una digressione se vogliamo. Allora, lo stesso campo R in realtà può essere considerato come spazio vettoriale su se stesso, e quindi immaginare delle funzioni che agiscono su E con un risultato in R. Sono delle funzioni particolari che agiscono su E con un risultato in R. E queste funzioni vengono anche chiamate forme, forme lineari in particolare, perché non l'ho detto, ma diciamo tutte queste funzioni qui che vengono considerate vengono dette forme lineari perché devono soddisfare a certe proprietà. Allora, una volta che uno abbia individuato delle forme particolari che agiscono su vettore di E per dare degli scalari su R, può anche fare quest'altra cosa, dire se io supponiamo di avere due funzioni che agiscono da E in R, quindi una funzione F e una funzione G, e di combinarle tra loro, quindi andare a, per esempio, a sommarle tra loro. Quindi faccio F più G, che va a agire su un certo vettore V, e definire questa somma di funzioni, questa F e G, in questo modo definirla come F di V più G di V, che sembra una cosa banale da farsi, in realtà non lo è per niente, perché la somma che ho scritto qui è la somma in R, dal momento che F trasporta un vettore di E in R, G trasporta un vettore di E in R, quindi questo F di V e G di V sono entrambi degli scalari, e noi gli scalari li sommiamo con l'operazione ordinaria di scalare, di numeri, 1 più 1 uguale 2, quel più, è proprio la somma che ci vado a mettere qui dentro. Mentre la somma che scrivo qui a sinistra, da quest'altra parte, non è la somma di scalare, è la somma di funzioni. Allora, quello che posso fare è costruire l'insieme di tutte le possibili funzioni da E in R, e questo assume un nome particolare, insieme agli omomorfismi, si chiamano omomorfismi da E in R, costruisco l'insieme di tutte le possibili funzioni da E in R, gli metto sopra un'operazione di somma, che è esattamente la somma che definisco attraverso queste equazioni qui, queste equazioni qui, questa definizione qui, e poi vado anche a definirgli il prodotto di queste funzioni per uno scalare. Quindi se io ho, per esempio, alfa sia un elemento di R e F sia un elemento di questo insieme degli omomorfismi da E in R, io posso definire il prodotto di alfa per F come quell'operazione che, quando vado ad agire su un certo vettore V, mi dia alfa moltiplicato, dove il prodotto è il prodotto ordinario di numeri, di scalari, F di V, dove qui F di V è uno scalare, appunto perché F ha preso un vettore di E e me l'ha trasportato in R, e poi lo vado a moltiplicare per un altro scalare, quindi questo è il prodotto ordinario di scalari, mentre quello che ho scritto qui non è il prodotto ordinario di scalari, è il prodotto di una scalare per una funzione, per un elemento degli omorfismi. Allora, il bello è che si può dimostrare che questo insieme di omomorfismi, dotato dell'operazione di somma, definita qui, e dell'operazione di prodotto per uno scalare, costituisce a sua volta uno spazio vettoriale che viene chiamato spazio vettoriale duale di E, quindi E star, e lo spazio vettoriale delle forme lineari da E in R. E questo spazio vettoriale è totalmente isomorfo allo spazio vettoriale ordinario, allo spazio vettoriale E di partenza, cioè che vuol dire sostanzialmente che la dimensione dello spazio vettoriale E è uguale alla dimensione dello spazio vettoriale E star. Cioè esiste una corrispondenza bionivoca, supponete qui di avere il vostro spazio vettoriale E, e qui lo spazio vettoriale E star, esiste una corrispondenza bionivoca, quindi una corrispondenza 1 a 1, che ad ogni vettore V di E vi associa un vettore dello spazio duale, dove appunto un vettore dello spazio duale coincide con una forma lineare. E questo è esattamente ciò che ha fatto Dirac. Cioè lui, quando parla di vettori Bra, in realtà si sta riferendo, non lui esattamente, ma i matematici che poi hanno ripreso in mano il suo formalismo, si sta riferendo a un vettore dello spazio duale, che voi, come chi ha fatto appunto mineralogia, anche se non lo sa, ne ha sentito parlare. Perché quando parlate di reticolo reciproco, e quindi tutto ciò che si utilizza per la costruzione della teoria della diffrazione, in realtà quello che state facendo dal punto di vista fisico, quando considerate i vettori del reticolo reciproco, che poi corrispondono alle direzioni dei fasci di fratti da un dato cristallo, quei vettori del reticolo reciproco in realtà sono i vettori di un reticolo duale, cioè un reticolo che è costruito su delle forme lineari. L'interpretazione fisica dei fasci di fratti, diciamo, dei vettori che vanno a descrivere i fasci di fratti, i vettori che si utilizzano, sono formalmente vettori che appartengono allo spazio duale. Quindi, anche se non lo sapete, ma voi di queste cose ne avete già sentito parlare con una terminologia diversa, ma li avete già anche usati. Allora, Dirac fa proprio questo discorso, lui dice, io prendo un vettore B, per esempio, un vettore cat B, e lo trasporto nel duale. Quindi, quando vado a costruire il bra, in realtà, sto usando questo isomorfismo tra lo spazio E e lo spazio duale star, e costruisco il mio bra, che è appunto il rappresentativo di questo vettore che ho disegnato qui dentro. E dopodiché cosa faccio? Questo è un bra, cioè un vettore dello spazio duale, che va ad agire su un dato vettore di E. Ma che cosa succede quando faccio quest'operazione? Questo è un vettore che in realtà appartiene ad E star, e questo è un vettore di E. Ma E star è lo spazio delle forme lineari, cioè di tutte quelle funzioni che prendono un vettore e lo trasportano in uno scalare. Quindi, questa roba corrisponde a dire è che io prendo il mio vettore, prendo una certa G che appartiene al nostro spazio vettoriale E star, prendo un certo vettore V che corrisponde al mio spazio vettoriale D, e cosa fa G su V? Mi trasporta in uno scalare R, non vettore, ma uno scalare R, perché questo è ciò che fanno proprio le forme lineari. E quindi a questo G corrisponde il mio bra B, e a questo vettore V corrisponde il mio cat A, e quindi scrivere G di V, G applicato a V è equivalente esattamente a scrivere B A, scrivere il bracket B A. E il risultato deve essere per forza uno scalare, perché appunto le forme lineari trasportano vettori di E in scalari nel campo dei reali. Tutto questo si può fare non soltanto nel caso dei reali, ma appunto lo facciamo anche nel caso dei complessi, per cui, sui spazi vettoriali complessi, per cui questo R in generale è un numero complesso, non è semplicemente un numero reale. Più o meno confusi? Quanto confusi? In una scala da 1 a 10? 6, 7. 6, 7, va bene. Troppo restrittiva la scala da 1 a 10. Troppo restrittiva. Ma una domanda avrei, se posso. Se io moltiplico quindi un vettore dello spazio vettoriale E per il suo reciproco e asterisco, cosa ottengo? Ottengo un numero nello spazio vettoriale o un numero invece nello spazio che ho definito come scalare? No, formalmente ottengo uno scalare, non nello spazio vettoriale, appunto perché i nostri cat, i nostri bra, trasportano vettori di V in il campo degli scalari. Quindi questa roba qui fa finire in R in un dato scalare. Quindi poi posso usare le operazioni aritmetiche consone normali per poter operare su questi vettori, ma sono in questo campo che ho definito? Sono in questo campo. Esatto, esatto, proprio così. Allora, dal momento che questi due spazi vettoriali sono isomorfi, cioè c'è una corrispondenza bionivoca che si mantiene anche attraversa le operazioni di somma e di prodotto, adesso non sto a specificare bene che cosa voglia dire isomorfismo, che dal punto di vista matematico ha un significato ben preciso. Diciamo una corrispondenza bigliettiva, ma non solo una corrispondenza bigliettiva tra vettori di E e di vettori di E star, cioè qualche cosa in più. Ma diciamo, dando molto molto rapidamente, possiamo equivalentemente descrivere un sistema sia attraverso l'utilizzo dei vettori cat sia l'utilizzo dei vettori bra. Appunto, Dirac non si era fatto molti problemi. Aveva definito i bra semplicemente in un modo molto molto semplice. Diceva, io prendo un vettore cat, lo trasporto nel corrispondente bra, che suppongo essere ancora un rappresentativo del sistema, e in questo modo posso fare il prodotto scalare con questa notazione, con un dato vettore cat. Sono stati poi i matematici successivi a cui questa cosa non piaceva per niente e che hanno detto, va bene, io prendo la tua idea, le tue possibilità, però allora ti costruisco la matematica intorno e hanno inventato gli spazi duali. La geometria che si insegna oggi nei corsi di matematica, che prende proprio le mosse da queste cose qui, è uno dei primi argomenti che si fa in un corso di geometria matematica, sono proprio gli spazi vettoriali, gli spazi duali, tutte le loro proprietà, è stata costruita intorno alle idee di Dirac. Dirac è stato un grande, nel senso che è stato quello che ha messo le basi, almeno a livello di idee, della matematica, che poi si utilizza in tutti i campi moderni, non soltanto nella meccanica quantistica. Allora, detto questo, noi abbiamo i nostri vettori cat e i vettori bra, e ho detto, se prendiamo un certo cat B e lo posso trasformare nel bra corrispondente B. Che succede se io prendo il mio cat B che è dato dal prodotto di una costante C per B? Cosa succede quando lo trasferisco nel bra corrispondente? Allora, la regola che si utilizza è questa. io prendo il bra corrispondente e il bra che ottengo semplicemente invertendo il cat B nel bra B moltiplicandolo per C star, per il complesso coniugato del numero che compare qui. C è C star. C da questa parte quando ne prendo il bra corrispondente diventa C star. Questa è una delle cose, una delle regole che vengono fuori in questo genere di matematica, che ha a fare con i numeri complessi e non semplicemente i numeri reali. Dopodiché ci sono dei cat particolari o dei valori particolari che assumono questi prodotti scalari. Per esempio, se io prendo un cat B posso definirne la norma facendo il prodotto scalare del cat con se stesso. Quella stessa cosa quando prendete un vettore V e volete fare la lunghezza del vettore V cosa fate? Prendete V lo moltiplicate per se stesso e poi al limite prendete la radice quadrata di tutto e avete la lunghezza del vettore V quello che chiamate il modulo del vettore V. Nel caso dei cat moltiplicare un cat per se stesso e quindi vedere quanto vale la lunghezza se vogliamo nel nostro vettore V semplicemente fate il prodotto scalare B per B. Quindi prendete B riprendete una copia di B ne fate il bra e poi lo moltiplicate col cat B di partenza e avete questo oggetto che corrisponde esattamente a V per V di scalare V. Se questo vale 1 diciamo che il cat B è normalizzato normalizzato ed è comodo lavorare con cat normalizzati. Vi dicevo che uno stato è descritto sia dal cat B sia da un cat qualunque moltiplicato per un certo scalare B. Allora tanto vale scegliere lo scalare BC in modo tale che il cat B risultante risulti normalizzato. Quindi quando si parla di normalizzazione in meccanica quantistica si intende sempre il moltiplicare un certo vettore rappresentativo dello stato del sistema per una data costante in modo tale che il tutto risulti poi normalizzato. supponiamo che B non sia normalizzato ma che sia che so B per B diventi 2 vogliamo normalizzarlo cosa facciamo? Beh se prendiamo il vettore chiamiamolo A uguale C per B e vogliamo determinare C in modo tale che da passare da un cat B non normalizzato ad un cat A che invece sia normalizzato. Allora cosa facciamo? Vogliamo che A scalare A sia 1 perché vogliamo che A sia normalizzato ma questo è uguale a C star per C B B quindi sono andato a prendere il bra corrispondente a CB che tra l'altro si chiama anche il coniugato ermitiano ma adesso lasciamo perdere la nomenclatura quindi ho formato C star per il bra B l'ho moltiplicato scalarmente per il cat CB e so che B per B vale 2 e quindi questo viene 2 C star per C o 2 semplicemente C modulo quadro di C e quindi viene fuori che C modulo quadro deve essere uguale a un mezzo ovvero poi posso dire che C è per esempio 1 su radice 2 cosa del genere e quindi numero reale che è 1 su radice 2 quindi se io vado a prendere il mio cat 1 su radice 2 per B quindi moltiplico il mio cat B per 1 su radice 2 normalizzato ottenuto un altro cat che chiamiamo A che corrisponde a 1 su radice 2 per B che è appunto normalizzato quindi l'operazione di normalizzazione è sempre un'operazione sempre possibile da fare basta fare il prodotto del cat col bra corrispondente e da qui ricaviamo l'equazione che ci consente di normalizzare il tutto poi vedremo perché è utile più che importante è utile lavorare con cat normalizzati altri cat interessanti sono quelli del tipo prodotti scalari interessanti sono quelli del tipo A B A scalare B in pratica uguale a 0 quando due vettori un bra e un B sono alzano prodotto scalare nullo diciamo che i due A e B sono ortogonali A e B sono ortogonali e questo corrisponde all'idea intuitiva che abbiamo anche negli spazi vettoriali ordinali quando facciamo il prodotto scalare di due vettori V e W se V è ortogonale a W cioè se il modulo dell'angolo compreso è 0 cioè i pi greco mezzi i due vettori diciamo ortogonali il prodotto scalare esattamente nullo quindi A scalare B in pratica in questo caso bracket AB è uguale a 0 diciamo che i due vettori sono ortogonali e poi vediamo vedremo perché è importante avere a che fare con sistemi di vettori ortogonali cioè qual è il ruolo che questi hanno nella teoria un'altra cosa importante che possiamo fare con i vettori è oltre a moltiplicarli per degli scalari e sommarli tra loro quindi supponiamo di avere due vettori A e B e supponiamo che siano anche ortogonali quindi AB uguale 0 quindi partiamo da due vettori e che siano ortogonali tra loro A e B moltiplichiamoli per degli scalari chiamiamoli che sono alfa e beta alfa e beta B e sommiamo il risultato questo che è una cosa che sappiamo fare negli spazi vettoriali oltre a come ho detto prima oltre a moltiplicare i vettori per degli scalari siamo anche in grado di sommarli e quindi otteniamo un certo altro vettore che possiamo chiamare vettore cat C questo dal punto di vista matematico è una cosa assolutamente consentita dal punto di vista fisico è una cosa molto importante perché è ciò che sottende a quello che viene chiamato il principio di sovrapposizione abbiamo il cat A descrive uno stato A il cat B descrive uno stato B e il cat C è non si dice che il cat B è semplicemente la somma di questi due vettori ma lo stato corrispondente si dice che è una sovrapposizione degli stati A dello stato A e dello stato B con certi coefficienti alfa e beta cioè una sovrapposizione con certi pesi alfa e beta che possono essere uguali o distinti cioè alfa può essere uguale a beta oppure no allora in meccanica quantistica si assume che lo stato di un sistema può anche essere una sovrapposizione di altri stati il che vuol dire che lo stato del sistema non è né A né B ma è qualcosa di diverso che in teoria è indeterminato molte volte indeterminato vi farò poi l'esempio non oggi adesso voglio andare semplicemente a schierare ancora qualche piccola formuletta ma domani un esempio nel caso della polarizzazione dei fotoni in cui diciamo si vede bene cosa voglia dire avere uno stato di polarizzazione di un fotone che sia la sovrapposizione di stati di polarizzazione differenti ma adesso non voglio dire troppo diciamo voglio raccontare le cose in modo un po' pulito quindi adesso detto in fretta non si capirebbe nulla adesso rimango semplicemente su ragionamenti di natura assolutamente matematica allora abbiamo questa scrittura in cui abbiamo questo cat c che è dato dalla somma di due cat alfa per a più beta per b e vogliamo calcolarci alfa e beta e abbiamo il fatto che a e b sono tra loro ortogonali allora come possiamo fare possiamo per esempio prendere il bra a quindi il bra corrispondente al cat a lo moltiplichiamo scalarmente per il vettore c questo sarà alfa a per a e supponiamo anche che a e a che a sia normalizzato e la stessa cosa valga per b quindi due i due cat a e b che ho scelto siano non solo ortogonali tra loro ma siano anche normalizzati più beta a b e adesso però i due cat sono ortogonali tra loro quindi questo qui vale 0 e quindi questo diventa semplicemente alfa a per a però se a è normalizzato come vettore cat questo è semplicemente 1 e quindi qui avrei semplicemente alfa e quindi alfa io lo posso ottenere in questo modo quindi questo coefficiente alfa qui lo posso calcolare semplicemente facendo il prodotto scalare del bra a per il cat c e la stessa cosa chiaramente vale anche per beta se voi moltiplicate c a sinistra per bra b questo risulta essere alfa b per a più beta b e ancora questo vale beta perché questo oggetto vale 0 e questo equivale semplicemente 1 quindi questo è semplicemente beta perciò avete che beta possiamo scrivere qui è uguale a b per c quindi avete la possibilità di calcolarvi i due coefficienti alfa di questa combinazione lineare dei due vettori a e b e quindi i due coefficienti che caratterizzano la sovrapposizione di questi due stati a e b nel terzo stato c adesso un tecnicismo che però poi è importante per l'intera teoria è che se io ho detto che posso descrivere invariabilmente il sistema o lo stato del sistema usando i vettori cat oppure i vettori bra io posso anche dire che lo stesso sistema può essere descritto dal bra c non soltanto dal bra dal cat c ma posso prendere il bra c che mi va a descrivere esattamente lo stesso sistema nello stato c il che vuol dire che io posso andare a fare questa operazione di coniugazione quindi vado a costruirmi il bra corrispondente al c poi la stessa cosa la devo fare a sinistra a destra dell'uguale su questi due termini che danno semplicemente a alfa star più b beta star perché ho fatto la coniugazione dei cat moltiplicati per scalare come avevo fatto vedere prima se non l'ho cancellato dove ho scritto qua su in alto vedete che quando passate da cb al corrispondente bra il c diventa il compresso coniugato e allora una volta che abbiate questo potete dire va bene cosa succede se io allora vado a moltiplicare c per il bra a da quest'altra parte per il cat a questo sarà a a alfa star più b a beta star ma ancora questi sono nulli questi b a questo b a è nullo perché i due vettori i due vettori che sono ortogonali tra loro il cat a è normalizzato quindi questo vale 1 e quindi questo il tutto diventa alfa star quindi da una parte avete alfa che è uguale a a c che avevo calcolato sopra questo alfa qui e poi avete anche che alfa star complesso coniugato invece è uguale a c per a e allora se prendiamo il complesso coniugato di questa espressione quindi facciamo alfa star tutto complesso coniugato il risultato sarà semplicemente alfa questo è il complesso coniugato di c a e quindi c a complesso coniugato è uguale a che cosa è uguale ad alfa ma alfa è uguale anche a c quindi questo è la stessa cosa vale per per il beta che vi conduce a questa equazione quindi avete c b complesso coniugato uguale b c allora questo è un tecnicismo non è che sia importantissimo per capire come funziona la meccanica quantistica però se non vi non vi scontrate un po' con queste cose poi il resto del formalismo non lo si capisce non si capisce la ragione di tanti passaggi matematici che sono tutti molto semplici sono tutti piuttosto piuttosto intuitivi però sono bisogna bisogna farli non sono neanche tanto pochi e avete tutte le volte che prendete un bracket e lo invertite cioè scambiate il cat con il bra e viceversa questo corrisponde a prendere l'operazione di coniugazione per cui c a complesso coniugato uguale a c è la stessa cosa per c b che è uguale complesso coniugato che è uguale a b c allora questo è più o meno tutto ciò che bisogna sapere dal punto di vista tecnico per lavorare con gli stati dei sistemi quindi abbiamo una matematica di questo genere costruita sugli spazi vettoriali e abbiamo due tipi di vettori abbiamo i vettori cat e i vettori bra e i vettori cat e i vettori bra descrivono equivalentemente un dato sistema un dato stato di un dato sistema adesso facciamo ancora un passo avanti poi la pianto lì per oggi e come ho detto vi ho fatto vedere prima nell'esempio in cui prendevo per esempio un vettore e ci applicavo su una funzione prendiamo un certo vettore v che me lo ruota in un certo vettore w quindi abbiamo un f v che mi dà un vettore w posso immaginare di avere una certa funzione che per l'occasione viene chiamata operatore in questo caso sarebbe un operatore di rotazione prende un certo vettore v e lo trasforma in un vettore w tra l'altro se avete visto qualcosa di calcolo matriciale da qualche parte in qualche corso queste cose nella geometria ordinaria nella geometria elementare sono abbastanza all'ordine del giorno prendete una matrice che va a agire sulle componenti di un certo vettore v per esempio prendete una matrice f che va a lavorare su un vettore di componenti v1 v2 nello spazio bidimensionale e vi dà un certo vettore w per esempio prendete la matrice 0 1 meno 1 0 lo andate a moltiplicare per un vettore 0 1 vettore di componenti 0 1 rispetto a un altro sistema di riferimento e se fate questa operazione avete 1 0 cosa avete fatto avete preso il vettore v supponiamo che questo sia il vettore v di componenti 0 1 l'avete moltiplicato per questa avete preso questo vettore qui di componenti 0 1 e la moltiplicate per questa matrice che è questo operatore f e il risultato è il vettore 1 0 quindi di componenti 1 0 rispetto allo stesso sistema di riferimento che è quest'altro vettore messo qui quindi questa operazione qui corrisponde proprio a una rotazione di pi greco mezzi in senso orario che possiamo chiamare operatore semplicemente che va a agire su un certo vettore v e quindi abbiamo rappresentato sia l'operatore f che fa la rotazione sia i vettori v e w rispetto a un dato sistema di riferimento la rappresentazione dei vettori v e w si trasforma in una rappresentazione in termini di vettori colonna con certe componenti dei vettori rispetto al sistema di riferimento e l'operatore medesimo f si trasforma in una matrice e Heisenberg per esempio che ha sviluppato la meccanica quantistica parallelamente a quanto aveva fatto Schrödinger utilizzava rappresentazioni matriciali per descrivere gli operatori ma questo diciamo è una cosa in più adesso non ci interessa quello che abbiamo però è che possiamo inventarci degli operatori che vengono descritti normalmente con una lettera con un simbolo di accento circonfesso sopra questo simbolo qui che vanno ad agire su dei vettori e il risultato normalmente sarà un vettore differente come qui abbiamo questo operatore f che agisce su un vettore v e mi dà un vettore differente qui abbiamo la stessa scrittura abbiamo un operatore che va a agire su un certo vettore cat e mi restituisce un certo vettore cat b in generale differente dal vettore di partenza allora se andiamo a pensare all'interpretazione fisica che diamo a tutto questo abbiamo che questo vettore cat a rappresenta un sistema nello stato a e questo vettore cat b rappresenta un sistema nello stato b e noi siamo andati ad agire sullo stato a con un certo operatore e abbiamo prodotto un sistema in uno stato differente ma questo è proprio ciò che fanno le osservazioni quando facciamo l'osservazione su un sistema come vi ho raccontato prima quando noi andiamo a osservare la posizione di un certo elettrone illuminandolo con un fotone noi produciamo localizziamo magari l'elettrone ma gli diamo uno stato differente perché cambiamo l'impulso di quell'elettrone quindi se prima l'elettrone prima di osservarlo si trovava in un certo stato dopo che abbiamo fatto l'osservazione lo stato di quell'elettrone è cambiato perché magari l'abbiamo localizzato ma abbiamo quindi abbiamo determinato la sua posizione ma abbiamo cambiato il suo impulso quindi lo stato del sistema è cambiato e qui abbiamo proprio una scrittura simbolica che descrive la stessa cosa abbiamo un operatore che va a agire su un certo stato del sistema che va a agire su un certo cat che rappresenta lo stato del sistema e mi produce uno stato differente B in generale quindi un cat che è normalmente differente da A quindi questa scrittura qui rappresenta l'interferenza di una certa osservazione in particolare F rappresenterà poi una certa variabile dinamica che potrà essere osservata nel momento in cui va ad agire su un certo stato del sistema ne altera lo stato quindi la nostra osservazione ne è alterato lo stato piccolo tecnicismo io posso considerare l'equivalente sui bra quindi prendo il bra B corrispondente a B e questo dovrà essere uguale a lo stesso operazione di osservazione chiamiamola così sul bra A ma fatta da un operatore che si chiama il coniugato ermitiano dell'operatore F quindi quando io prendo prima prendo un numero scalare C lo moltiplico per un vettore B e poi ne prendo il bra corrispondente quello che si fa è prendere il complesso coniugato del numero C dello scalare C quando invece questo C non è una C ma è un operatore quello che si ottiene è un operatore che corrisponde al complesso coniugato ed è quello che viene chiamato il coniugato ermitiano il quale è definito in funzione di F proprio attraverso una scrittura implicita di questo genere quindi semplicemente la coniugata ermitiana di tutta questa equazione qui è quella che ci va a definire implicitamente la forma di questo operatore coniugato ermitiano di questo F croce questa F non è un più ma è una croce normalmente viene letta così Dagger gli inglesi parlano di Dagger F Dagger Noi saremo poi interessati poi vi faccio vedere perché agli operatori ermitiani cioè gli operatori ermitiani sono quelli per cui il coniugato ermitiano coincide con l'operatore di partenza e quando andiamo a parlare di matrici cioè diamo una rappresentazione matriciale a questi operatori F più o meno come ho fatto qui un operatore ermitiano è un operatore simmetrico complesso coniugato dell'operatore di partenza è un dettaglio che non ci interessa in realtà questo poi vi faccio vedere perché noi siamo interessati o in meccanica quantistica siamo interessati a lavorare in certi frangenti con gli operatori ermitiani cioè perché gli operatori ermitiani sono quelli che in realtà codificano poi per le osservabili dinamiche mentre in generale quindi il momento la posizione l'energia eccetera sono tutti operatori ermitiani mentre operatori non ermitiani non vengono usati per questo scopo non vengono usati per descrivere le variabili dinamiche va bene direi che per oggi ce n'è ce n'è a sufficienza e domani quindi faccio una ricapitolazione di queste cose qui e poi andiamo avanti e arriveremo abbastanza rapidamente poi a in realtà arriviamo poi abbastanza rapidamente all'equazione di Ciroedini per questa via non è che sia poi estremamente lungo bisogna solo imparare un po' a ragionare su questi oggetti va bene grazie va bene quanto vi è chiara questa parte molto difficile sicuramente meno di quello che abbiamo fatto stamattina esatto direi che sono d'accordo questa è una cosa nuova non l'avete mai vista mentre quello abbiamo fatto stamattina più o meno già nel sangue insomma ma digerite un po' il formalismo e come funzionano gli operatori poi si vedrà e anche su questo ho delle dispense o delle dispense di meccanica quantistica che vi passo grazie queste cose sono descritte scusi prof mi sono perso dove carica il materiale oh il materiale ve lo mando direttamente via mail ah ok perfetto sì sì perfetto arrivederci a domani grazie a domani arrivederci buona serata buona serata buona serata a domani